buona giornata amici da massimo foghetti bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 1 aprile 2023 quello che vedete non è il segno zodiacale dei pesci ma è il simbolo di una tradizione ancora radicata nel nostro territorio un pesce d'aprile insomma non manca mai anche nella nostra redazione vediamo subito qual è l'ammanacco del giorno e il santo che si festeggia oggi oggi si festeggia Sant'Ugo di Grenoble siamo nel XVI secolo siamo in Francia ovviamente fu vescovo della sua città Ugo si distinse per il suo ingegno la sua umiltà e la sua battaglia contro i peccati soprattutto anche quelli compiuti dagli stessi operatori della chiesa qualche volta il vizio si insinuava anche nel clero e quindi Ugo fu uno di quelli che cercò di risanare un po' anche le sue pecorelle diciamo così le previsioni del tempo il tempo è cambiato lo vediamo anche se questa mattina a Sufano il cielo è sereno però nella notte c'è stata pioggia tempo a tratto instabile dunque su tutta la regione con piogge locali rovesci nella notte e di nuovo nel pomeriggio il clima diurno emite non fa molto freddo le temperature massime si attestano anche sui 18 gradi 18 19 gradi le minime sugli 11 gradi i venti sono moderati sulle coste espireranno da ovest nell'introterra da ovest sud ovest il mare è leggermente mosso il vento dicevo non c'è il vento è moderato e allora questa mattina apriamo apriamo il resto delle carlino e vediamo subito l'articolo di apertura viale che ha i roli più largo ma i tempi preoccupano ebbene quando si fanno i lavori ovviamente si procurano dei disagi specialmente a coloro che abitano o lavorano nella zona in cui questi lavori si effettuano e c'è preoccupazione da parte degli operatori del lido coloro che operano in viale che i roli per quanto riguarda il progetto che il comune di fano insieme alle ferrovie dello stato hanno ideato per rendere ancora più accogliente questo viale che è un po il trade union tra il centro storico di fano e il lido il salotto della città viale che i roli più largo ma i tempi preoccupano sì perché se i lavori verranno effettuati durante i mesi estivi sconvolgendo un po tutto quello che è la viabilità della zona ovviamente i bar i ristoranti gli alberghi ne risentiranno e quindi ecco perché c'è l'allarme degli operatori felici dell'ampliamento del sottopasso attualmente invalicabile dai portatori di handicap però se lo chiudono in estate forti i danni per le nostre attività ampliamento dunque del sottopasso di viale cairoli il progetto è già stato presentato in giunta i lavori potrebbero partire dopo pasqua il costo stimato è di circa 2 milioni e 500 mila euro dei quali 2 milioni a carico delle ferrovie dello stato 500 mila sono risorse comunali saranno tratte dal bilancio del comune ebbene la riqualificazione del sottopasso che passerà da 4 a 6 metri quindi sarà più ampio e ovviamente sarà anche accessibile ai portatori di handicap perché sarà invece della scalinata ripida che abbiamo adesso sarà realizzato un accesso più facile ebbene con abbattimento delle barriere architettoniche ci saranno anche percorsi tattili per le persone ipovedenti nuova illuminazione e impianto di videosorveglianza ebbene un progetto giudicato lodevole dagli operatori ma si raccomandano di farlo almeno nella stagione morta quando non c'è tutto quell'afflusso che dal centro storico appunto arriva al mare e qui vediamo uno degli operatori che eleva questa protesta si tratta del titolare del ristorante casa Orazzi che è lo stesso poi dell'albergo Augustus che è all'inizio appunto di Viale Cairoli tra Viale Cairoli e Via Puccini e poi vediamo qua invece a fondo pagina un articolo che riguarda il futuro di Marina dei Cesari di questo porto turistico un po' travagliato Marina dei Cesari verso l'asta in carico per valutare tutto lo scalo inizia ora la corsa tutta in discesa per quanto riguarda la vendita all'asta del porto turistico Marina dei Cesari perché il liquidatore Gaia Cesaroni di Pesaro dopo aver ricevuto l'ok da parte del giudice fallimentare del tribunale sta per affidare l'incarico sembra a una ditta milanese specializzata nell'ambito della nautica quindi la società attraverso i suoi periti dovrà valutare dovrà insomma dare un valore allo scalo ai posti barca, alle strutture in modo poi da realizzare, da calcolare un importo a base d'asta su cui verranno fatte le offerte lo stato delle opere in cemento, il loro degrado, le banchine, i posti barca non secondario poi nella valutazione di tutto questo complesso potrebbe essere anche il fatto che lo scalo ha assoluto bisogno di essere dragato perché ovviamente in questo momento le barche, quelle più grandi per esempio la Pershing non riesce più a varare le sue barche nel porto di Fano e deve farlo nel porto di Pesaro quindi anche il fatto del dragaggio è importante per assicurare un livello d'acqua sufficiente per poter ospitare gli yacht, le barche più grandi insomma desta un po' di preoccupazione la sorte di Marina dei Cesari ed ora parliamo, e ne parla il resto del Carlino da qualche tempo, da qualche giorno parliamo delle prossime elezioni politiche quelle che si svolgeranno nel 2024 si parla delle amministrative ebbene, Mascarin Spariglia l'autocandidatura di Samuele Mascarin a sindaco di Fano ha un po' vivacizzato quelle che sono le prospettive per la campagna elettorale ma comunque al momento molti restano zitti restano zitti perché? Ebbè c'è una dichiarazione del sindaco Massimo Seri che dice che con una rincorsa troppo lunga rischia di bruciarsi forse ancora troppo presto per condurre una battaglia che poi insomma è una battaglia estenuante perché sarà fatta di incontri, di dichiarazioni di contatti, di convegni insomma è una battaglia che dovrebbe poi protarsi fino agli ultimi giorni precedenti alle elezioni che si svolgeranno presumibilmente tra il maggio-giugno del 2024 se la rincorsa è troppo lunga ha detto Seri si rischia di arrivare al momento del salto con il fiato corto il sindaco usa una battuta per frenare gli entusiasmi dell'assessore Samuele Mascarin che insiste però per le primarie del centro-sinistra e avanza la sua candidatura a sindaco e gli altri ipotetici candidati al momento sono più prudenti voglio dire insomma cercano un po' di guardarsi attorno di vedere com'è il momento e poi il momento giusto presentare la propria candidatura e non rispondono al momento chi? Minardi, Lucarelli, Fanesi mentre Marta Ruggeri si tira fuori dai giochi c'è una dichiarazione netta da parte del capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri e dice escludo ad oggi la mia candidatura quindi Marta Ruggeri non parteciperà alla campagna elettorale sì parteciperà alla campagna elettorale per il suo partito ma non per se stessa per la candidatura a sindaco ebbene poco convinta di mettersi in gioco in prima persona è anche l'assessore alla cultura Cora Fattori me lo chiedono in diversi ma per più che stratega piace essere operativa inoltre tornare al mio lavoro che mi soddisfa non è una eventualità che mi dispiacerebbe il suo lavoro professionale Cora Fattori è ingegnere quindi ha una sua attività e anche su questo piano Barbara Brunori dimostra scarso interesse al tema l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori in questo momento il mio impegno è portare avanti tanti cantieri ha detto Barbara Brunori e in questo momento non penso affatto alla candidatura a sindaco penso invece a portare avanti a concludere i progetti che sono stati impostati alcuni e molti di quali a causa delle ditte inadempienti infatti hanno bisogno di cure assidue e di diverse sollecitazioni addirittura questa mattina tra poco alle 8.30 verrà inaugurato il parcheggio di via Risorgimento che è veramente una struttura attesa da molto tempo doveva essere compiuta entro il 31 dicembre scorso in realtà è slittata di tre mesi ma oggi verrà inaugurata e sono 88 posti auto che verranno posti a disposizione gratuitamente degli automobilisti quindi una realizzazione importante vediamo ancora il resto del Carlino abbiamo qui l'articolo che riguarda la compartecipazione del Liceo Nolfi Apolloni alla organizzazione del Festival Passaggi che è stata presentata l'altro ieri dal preside Samuele Giombi e dal direttore del Festival Giovanni Belfiori qui abbiamo anche gli altri personaggi nella foto che hanno partecipato alla conferenza stampa e poi vediamo anche l'iniziativa sempre del Liceo Nolfi Apolloni per quanto riguarda la curva medica una preparazione degli studenti in vista di un loro possibile accesso alla facoltà di medicina appunto della università il coro di una scuola tra le note vince il primo premio i piccoli di bellocchi emozionano ebbene hanno vinto il primo premio alla quarta edizione del Gran Premio Internazionale di Canto Corale Cor Amare di Sestri Levante la sezione delle scuole primarie hanno vinto con una canzone molto bella si tratta di quella che è stata poi realizzata da Tony Bungaro con il musicista Marco Pacassoni e il coro diretto sempre dal maestro Caselli Giorgio Caselli quindi un bel successo per questi ragazzi ed ora siamo a Colli al Metauro a Colli al Metauro è stato inaugurato un pulmino veramente importante trasporta anziani e malati è un taxi sociale un taxi sociale che viene messo a disposizione anche ad un costo compatibile Colli al Metauro inaugurato il minivan così si chiama per raggiungere uffici e centri medici il costo dei viaggi da 2 a 5 euro fino a 18 per raggiungere Ancona o Rimini ebbene è stato inaugurato ieri questo nuovo mezzo per disabili acquistato dall'amministrazione grazie ad un fondamentale contributo di 15 mila euro della regione arrivato in virtù di uno specifico emendamento che ha inserito nel provvedimento il consigliere regionale Luca Serfilippi e proprio Serfilippi ha preso parte ieri mattina alla inaugurazione al taglio del nastro accanto al primo cittadino Pietro Briganti e poi c'erano anche altri amministratori a questa cerimonia ebbene per usufruire del taxi sociale fornito grazie ad una convenzione lo utilizzerà l'Auser e prevede appunto una piccola compartecipazione alle spese dai 2 a 5 euro fino a 18 di cui abbiamo detto comunque per attivare il servizio si può telefonare al numero 07 21 89 29 32 89 29 32 lo ripeto ancora una volta 89 29 32 tutti di corsa ecco la maratona per la giornata dell'autismo domani è la giornata dell'autismo 2 aprile a Mondolfo la giornata si celebra con la quinta edizione dell'Onfalos Half Marathon una manifestazione podistica per atleti insomma correre una mezza maratona anche se non è una maratona incompleta non è semplice c'è sempre una distanza particolare 21 o 21 chilometri 21 0 97 chilometri da percorrere ma anche per amatori e famiglie c'è anche una edizione non competitiva di 10 chilometri denominata Avis Ten una corsa amatoriale su una distanza per una camminata naturalistica quindi possono partecipare anche famiglie e ragazzi che intendono fare una passeggiata un pochino impegnativa ma certamente non insomma non è inaffrontabile ecco questo volevo dire ebbene una bella iniziativa dunque per Mondolfo mentre per Fano invece abbiamo una manifestazione organizzata da Open House nell'immediato entroterra fanese entroterra cittadino dove si coltiverà un orto appunto a cura dei malati di autismo di coloro che appunto hanno questa patologia e vediamo invece una bella iniziativa che si svolge ad Urbino assorbenti gratuiti per le studentesse ebbene è un primo dispenser nell'aula studio in piazza delle Erbe ora c'è la richiesta di allargare il servizio in altri punti strategici cittadini ebbene chi è che ha organizzato questa iniziativa? sono stati gli stessi studenti che si riuniscono nel consiglio della università in collaborazione con l'associazione universitaria FUCI di Urbino Pier Giorgio Frassati e grazie anche al contributo della farmacia centrale che cosa è stato fatto? è stato attivato un distributore gratuito di assorbenti mestruali nell'aula studio La Piazzetta in piazza delle Erbe installando un dispenser accanto al bagno una bella iniziativa fatta dai ragazzi appunto per tutte le ragazze appunto con la collaborazione di questa farmacia che fornirà appunto gli assorbenti e chissà poi che non vengano estesi anche in altre parti della città siamo a Fermignano e c'è ancora polemiche per quanto riguarda il paglio delle rane mancano le rane per il paglio si cercano un po' dappertutto anche all'estero insomma non è che ci siano molti allevamenti di rane comunque l'EMPA attacca l'abbiamo visto ieri gli ambientalisti sono contrari all'utilizzo di rane vive per questo paglio per questo gioco e quindi c'è polemica questo procura dei grattagapi al sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi il quale comunque ha confermato che il paglio si farà in realtà ha detto le rane che verranno usate al paglio sono quelle poi destinate all'alimentazione quindi tra il correre e il fuggire si dice insomma c'è poca differenza prese da allevamenti e riconsegnate a fine gara non rilasciate in natura infatti vietato farlo inoltre non ci sono maltrattamenti anzi gli scariolanti sono sempre attenti a non lesionare negli ultimi vent'anni non è morta alcuna l'ultima volta fu quando è morta all'inizio degli anni 2000 quando ci fu una invasione di tre ambientalisti che ne presero una e la scagliarono in mezzo al pubblico addirittura la morte fu causata dagli ambientalisti che ora ovviamente protestano per l'utilizzo di queste rane questa è la dichiarazione del sindaco Feduzzi da Picchio all'Uganda per aiutare chi soffre il parroco Don Sauro Profiri è andato a visitare il pozzo d'acqua che lui stesso ha fatto costruire in memoria dei suoi genitori ebbene anche questo è un tre d'union un ponte che si svolge che collega il nostro territorio a questo paese povero dell'Africa ed ora vediamo anche quello che si fa a Fossombrone un tappeto d'asfalto per il giro d'Italia a Fossombrone si appronta un intervento temporaneo per la grande tappa tra due anni torneranno i San Pietrini e quindi c'è questo al momento quest'opera di qualificazione che ovviamente rende più agevole l'arrivo dei ciclini al giro d'Italia diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi e vediamo che c'è stato una condanna una condanna per caporalato a carico di un imprenditore che ha ricevuto dal giudice una sentenza di tre anni e nove mesi e la pena inflitta Simone Druda di 49 anni titolare dell'omonima ditta di infissi a case bruciate sono stati confiscati 59 mila euro di beni ed è stato assolto dall'estorsione erano 28 le parti offese ovvero 28 gli operai che appunto subivano queste angherie le parti offese risarcimento poi ci saranno in sede civile l'uomo è accusato sia di caporalato in sostanza di sfruttare i suoi dipendenti approfittando del loro stato di bisogno tutto era partito da una denuncia di uno dei suoi dipendenti e al processo poi le parti offese sono state calcolate in 28 sono in maggioranza stranieri ma ci sono anche una decina di italiani tra operai e personale amministrativa tutte le 28 però si sono costituiti come parti offese e poi la città è sotto shock per la morte di Alberto Gregori che è caduto dalla sua motocicletta nella notte dell'altra sera Gregori il 39enne che si è schiantato contro un albero in via Gagarin lascia la moglie e due figli piccoli Giovanni Corsini presidente dei geometri dice sul lavoro era un esempio Valeria Grestini un'altra testimonianza sempre disponibile l'uomo era in sella la sua Harley Davidson una vicina l'ho sentito partire più tardi del solito poi il dramma appunto ora si cerca anche di capire quali sono le cause di questo terribile incidente e qui abbiamo invece un aggiornamento del processo per quanto riguarda la strage di Corinaldo vittima ed eroe Daniele mi ha salvato poi rimasto schiacciato nel caos della discoteca e la testimonianza inedita questa di un amico di Pongetti che è emersa nel processo ha perso i sensi ma lui è riuscito a farmi riprendere con alcuni schiaffi purtroppo dopo è stato travolto e io non ho potuto fare nulla un estremo atto di generosità di un ragazzo che ha salvato il suo compagno poi ovviamente lui non gliel'ha fatta perché la ressa la moltitudine la confusione ha generato un caos tale da far soccondere anche lui stesso il compagno si è salvato lui no e qui abbiamo una foto del giovane Daniele Pongetti una delle vittime della strage di Corinaldo la Lega sceglie il segretario Enrico Rossi Melis ecco la sfida si chiude il lungo periodo di commissariamento di questo partito il congresso oggi Altagotel di Fano favorito il sindaco di Cartoceto che ha l'appoggio del deputato Carloni sarà eletto anche il direttivo e vedremo chi la spunterà si dice che Enrico Rossi sia il favorito ma vediamo anche se Gian Mauro Melis si sarà la stessa sorpresa che ha caratterizzato le elezioni del segretario nazionale del partito democratico dove la Schlein era così dichiarata perdente in realtà poi ha avuto la maggioranza dei consensi e vediamo ancora la pagina di Pesaro nella zona Capucini via ai lavori preliminari sotto passo chiuso già dopo Pasqua l'assessore Pozzi subito la bonifica bellica quindi non potrà più essere utilizzato perché ci saranno i lavori ed ora passiamo un attimo al Corriere Adriatico per vedere l'apertura sulla pagina di Fano e vediamo come questa è dedicata ad un convegno ad un incontro che c'è stato l'altro pomeriggio tra l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli e la Confcommercio che ha posto sul tavolo dell'assessore alcuni problemi come per esempio la strada delle barche che se si realizzerà convoglierà il traffico dei grandi yacht su Viale Adriatico dove ci sono gli alberghi e quindi disagi per quanto riguarda i clienti che devono spostare in continuazione le loro macchine la carenza di fermate dei treni e la stazione di Fano che non consentono ai turisti esteri di soggiornare nel nostro territorio ma passano e vanno in altre parti e poi soprattutto la chiusura per lavori della Contessa che arresta l'afflusso dei turisti umbri nelle nostre coste tutti i problemi a cui l'assessore regionale dovrà rispondere e dovrà cercare di attenuare gli effetti fermate la strada delle barche un molo per il varo del bersaglio se si annulla la strada delle barche si dovrebbe costruire un molo nei pressi della pista dei go-kart dove le barche possono appunto affrontare il mare e poi raggiungere via acqua il porto di Fano PNRR arriva un altro milione la scuola Gandiglio in sicurezza concessi altri 460.000 euro per l'efficientamento energetico di tre edifici e tra questi abbiamo anche casa Archilei sono appunto diversi gli edifici che hanno nuove strutture per quanto riguarda la generazione di calore e quindi l'efficientamento energetico che derivano dai fondi del PNRR abbiamo la Gandiglio la Nuti e anche qui ci sarà un relamping nel segno delle led e poi ancora abbiamo la scuola dell'infanzia alla trottola la palestra Zattoni casa Archilei dove si metterà a mano alla sostituzione del generatore di calore e a quella degli infissi quindi lavori importanti per la cura e la manutenzione degli edifici scolastici e poi abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda quel caso di violenza sessuale di abusi sessuali che un istruttore di tennis avrebbe compiuto al circolo tennis della trave ma anche a Pesaro ai danni dei propri allievi sentito dal giudice uno dei tre ragazzi dell'accusa adesso Maggiorenne conferma tutte le accuse nei confronti del suo istruttore e qui il processo è un processo insomma l'ascolto le indagini vanno avanti anche la pagina di Senigallia eccola qua ci comunica che sono arrivati fondi per la nuova scuola Puccini dalla regione arrivano due milioni e mezzo avviato il cantiere per la pista ciclabile di Manzocca che per 410 metri verrà realizzata sull'arenile vedete questi fondi del PNRR di origine europea come riescono ed è un caso unico più che raro riescono a realizzare diversi progetti che altrimenti non sarebbero potuti compiersi per via della insufficienza di soldi quindi importantissimi i progetti prima di chiudere voglio soltanto darvi due notizie di sport la mia alma è motivata con la vigor gara tosta dice appunto la serie D per quanto riguarda il campionato di calcio e per la vis nella Tana del Lupo spera in Di Paola fondamentale recupero del centrocampista per la gara di oggi a Gubbio e speriamo che sia una vittoria e questo è tutto per il momento vi saluto e vi do appuntamento a lunedì alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci